Esponeva Chanel e Moschino, ma pure loghi graditi a teenager e bambini, da TikTok alla casa di carta, da Minecraft a Fortnite, brand di case di moda o marchi di serie tv e programmi YouTube note ai più giovani legati da un comune denominatore. Erano tutti marchi fasulli e applicati su maglie e felpe messe in vendita al mercato di Pesaro nel parcheggio del San Decenzio. Questa l'attività illegale scoperchiata dalla compagnia di Pesaro della Guardia di Finanza che durante il settimanale mercato cittadino ha sequestrato 700 capi d'abbigliamento e accessori con marchi contraffatti dalla bancarella di un ambulante. Le fiamme gialle si trovavano infatti al San Decenzio per un controllo mirato alla prevenzione e al contrasto di illeciti in ambito economico-commerciale. L'attività di vendita dell'ambulante in questione ha subito attirato l'attenzione dei finanzieri. Ispezionato lo stand espositivo si è presto rilevata la contraffazione della merce. Non solo, l'ambulante risultava già gravato di simili precedenti. Allora l'ispezione si è allargata all'abitazione privata dove è stato trovato una sorta di deposito con la stessa tipologia di capi d'abbigliamento. La stima del valore complessivo della merce sequestrata è di circa 14.000 euro. L'ambulante è stato denunciato per i reati di ricettazione e introduzione nello stato di prodotti falsi destinati al commercio.